...pospettiva tutt'altro che sgradita ai 5 Stelle, per nulla interessati all'incontro tra Letta e Napolitano. Queste sono marionette di lobbisti, di gruppi industriali, di poteri forti. Che salga al Quirinale non ci interessa. Per cambiare bisogna tornare subito al volo? Sì, e possibilmente con una legge elettorale che non sia incostituzionale come questa, come lo schifezzello dei condannati, l'unica soluzione sarebbe uscire fuori con la legge elettorale uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale. Tutti gli occhi sono puntati.